Vuoi di creare la cappella Sistina nella camera del bambino? Ma me lo merito! Dovresti startene comoda sul divano con una vaschetta di gelato in mano. Non ti muore, eh? Tarin, piccolo, dove sei? È colpa tua, stronzo! Che cosa vuoi? Ascoltami! Ora tu torni all'ospedale e sei fuori mio fratello! Dove va lui vado anche io. Come dice lei, agente. Che ha il paziente? È il cuore! Prenda il defibrillatore! Non vuoi farti coinvolgere? Lasciami fare da solo! Dov'è mia moglie? Sbirri corrotti! Dove stai andando? Vado ad ammazzarli. Ovvio. Gli sbirri ti vogliono morto, amico. Muori! Sembra di essere in Metal Gear Solid. E che cazzo è? È un videogame. Scusa, ma sono un po' cresciuto per giocare ai videogame. Per lavorare sulla tua aggressività dovresti provarci. Dovresti qualsiasi cosa per la tua cazzo di famiglia. Beh, eccolo il qualsiasi cosa per te! La moglie non ha fino a domani. Avete un'ora. Andrà in galera. Se io vado in galera, tu vieni con me. Pulita e lustrata, con una carrozzeria che sembri nuova, niente rigature. Potrebbe scendere. Ho dello spray al peperoncino con me. Ho una pistola nei pantaloni. Ma che cazzo di autolavaggio è? Quasi cazzo di autolavaggio è?